I sondaggi ci dicono che il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica della regione e appunto è una fiducia che ci siamo conquistati con i fatti e col lavoro di questi cinque anni e ci dicono anche i sondaggi usciti oggi che Caldoro sarebbe dietro il candidato presidente del Movimento 5 Stelle. Questo per noi è il punto di partenza da cui prendere la rincorsa per puntare in alto.